Flada e Ziki Quale scelgo? Questo! Passeggeri del volo, recarsi al gate 89! Ragazzi, fermi! Venite qui! Ciao! Controlliamo dentro! Oh, Chris, sei tu! C'è qualcosa di strano col tuo bagaglio! Caramba! Chris, i dolci sono vietati! Ok, senta, ma posso portare i giocattoli? Ok, Chris, puoi portare i giocattoli! Ecco qui! Buon volo! Ci vediamo! Il prossimo... Puoi aiutarmi col bagaglio? Agente! Tutto a posto! Agente! Stuben! Non lo sai che c'è un limite per il peso della valigia? Grazie! Buon volo! Ciao! Ciao, ciao! Ciao! Ah, guai! Ok! Ciao! Interessante! Va tutto bene? Sì, ecco il suo passaporto! Ciao! Ciao! Ah, guai! Oh, là! Ciao! Il passaporto? Ok! Ecco il passaporto! Buon volo! Ci vediamo! Ciao, mamma! Ciao, ciao! Miam! Caramelle? Dove hai preso le caramelle? Alla macchinetta! A me, a me, a me, a me! Oh, a me, a me! A me! A me! A me! Benvenuti a bordo, giovani passeggeri! Ciao! Oh! Oh! Niente dolcetti sull'aereo! Miam! Miam! No, no! Ragazzi, cosa facciamo? Ci servono tantissimi dolcetti! Nessun problema! Miam! Miam! Ah, si fa festa! Dove sono le tue caramelle? Non funziona! Non ce l'hai fatta! Ho un piano! Torno subito! Mettiamo i dolcetti dentro! Ehi, fermo, fermo! Ho dimenticato qualcosa! Dov'è Chris? Non lo so! Eccomi! Come mai la lenza? Ragazzi, vi faccio vedere! Ci sei quasi, Chris! Dai, dai! Laggiù! Dai! Che cos'è? Dolcetti! Non si pesca sull'aereo! Oh no! Peccato! Tocca a me! Potere alle donne! Ah? Cosa ha detto? Un orsetto? Ehi! Eh? Un orsetto? Fai così! Ciao! Ciao! Un orsetto! L'avevo detto che le ragazze stravincono! Non può vincere lei! Biglietti, prego! Ecco! Il suo biglietto, signorina! Scusi! Biglietto? Scusi? Signore, scusi! Se non ha il biglietto, deve scendere dall'aereo! Ma, 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 ma... Il mio orsetto! Peccato! Allacciate le cinture! Cosa? Alaska? Uh oh. Oh! Hey! Ha, ha, ha! Uh oh! Let's go! Oh no! Do-da-do-do-do! Oh no! Ha, ha, ha! Andiamo, forza, andiamo! Ok, andiamo! Forza, andiamo! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Let's go! Oh no! Let's go! Oh no! Ok! Forte! Vai, 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 vai! Oh no! Oh no! Oh no! expecting! Oh no! Oh no! no 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 grazie per la chiamata rimanete in casa arrivo, cinque minuti oh, un'idea oh no e poi what? no 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 oh, un'idea oh, un'idea oh, un'idea oh, un'idea oh, un'idea oh, un'idea bello fatto ottimo lavoro oh, un'idea